Si può arrivare a tanto? A Gela è possibile. Quanto è accaduto nella notte di sabato scorso in una strada nei pressi della chiesa Santa Maria di Bettremme a poche centinaia di metri dal commissariato di polizia? Stiamo parlando del furto di un bidoncino, della spazzatura, del valore di 5 euro. Roba da non crederci. Chi ha agito guida un Mercedes, dunque questo ci induce a pensare che il tenore di vita della serie Lupena di turno è medio-alto. Per tornare indietro con la propria autovettura, al fine di rubare il secchio dopo aver svuotato a terra la spazzatura, avrà consumato almeno 4 euro di benzina in merito alla cilindrata della vettura. Quello che fa specie in questa vicenda è che il ladro addirittura chiede un parere a chi si trova con lui nell'auto. Ti piace? Lo prendiamo? Bene. E poi carica il maltolto nel bagagliaio. Chi compie certe azioni a danno del prossimo e della comunità non merita né rispetto né comprensione, ma solo disprezzo. Si può rubare un bidone rischiando di essere bloccato dalle forze dell'ordine e dunque di macchiarsi la fedina penale. A Gela, come si sa, è in atto la raccolta differenziata. Molti cittadini si impegnano a fondo per separare ogni tipologia di rifiuto, per essere ligi al dovere, ma anche perché, bene, consapevoli che una raccolta differenziata fatta d'arte può dare un enorme beneficio a tutti noi. In questo caso c'è qualcuno che ritiene di potersi prendere gioco di chi fa il proprio dovere e per questo mette in atto comportamenti deprecabili. Già lo scorso 5 settembre si era parlato di un giro di raccolta abusiva della plastica che sottrarrebbe alle casse della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti e al comune circa 15.000 euro al mese. La denuncia arrivò direttamente dai responsabili dell'azienda campana Tecra, titolare dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in città. I presunti ladri di spazzatura, si disse, agivano nei giorni fissati per la raccolta della plastica anticipando l'arrivo degli operai Tecra. È tuttora forte la convenzione che alcuni mezzi girino per la città la notte, così come dovrebbe essere normale per gli operatori della Tecra, raccogliendo la plastica e rivendendola a centri di stoccaggio o ad aziende del settore. Ma non si era mai arrivati a tanto. Il problema potrebbe essere risolto, se vogliamo, nella misura in cui la ditta incaricata della raccolta della spazzatura dotasse i cittadini di bidoni per la differenziata con relativi numeri di serie. Il furto potrebbe ugualmente consumarsi, ma prima di rubare il bidone l'autore ci penserebbe più di una volta.